Ciao a tutti amici di App Video Review Oggi andremo a recensire Final Fantasy 3 Il porting di uno dei più famosi giochi presenti su console Disponibile per iPhone al prezzo di 12,99€ E per iPad aggiungendo 1€ Quindi 13,99€ Questa è la versione per iPad Che è uguale alla versione per iPhone Ovviamente riadattata allo schermo del tablet E andiamo allora a vedere il gioco Questo è il terzo capitolo presente su App Store Oltre a già il primo e il secondo Ed eccoci alla schermata principale Final Fantasy 3 Come possiamo vedere la Square Enix è la Software House E qui abbiamo queste tre opzioni Continua nel caso in cui Appunto abbiamo salvato in modo automatico Quindi vogliamo continuare la partita Se no se avete appena comprato il gioco Ovviamente dovrete andare a nuova partita Essendo andato avanti nel gioco Vediamo un po' come sono le caratteristiche di questo titolo Questa è la sua grafica Quindi adattata molto bene All'alta definizione comunque Degli ultimi modelli di iPhone e di iPad Ma comunque sempre un po' pixelosa Per quanto riguarda Comunque per richiamare un po' Comunque gli anni 90 Data di uscita di questo gioco Come potete vedere c'è già un combattimento Vediamo subito Abbiamo in questo caso già sbloccato tutti e quattro i personaggi Qui c'è l'elenco E noi qua a sinistra Potremo andare a scegliere cosa fare con questi nemici Avremo la possibilità di scegliere l'attacco Se utilizzare le magie Se difenderci Oppure di utilizzare degli oggetti Quindi di vedere che cosa abbiamo nella nostra borsa Oppure di arretrare Proviamo un attacco con tutti e quattro Basterà fare così Il personaggio verrà davanti in maniera automatica rispetto alla fila Noi andremo a premere l'attacco Scegliere uno dei due nemici In questo caso appunto ne abbiamo due Quindi possiamo scegliere anche il secondo E così per l'ultimo andiamo su attacco Premiamo il primo Come potete vedere L'attacco viene eseguito in maniera automatica Una volta uccisi tutti e due nemici Qua in alto potremo vedere che Abbiamo ottenuto in questo caso 24 gil Che sono i soldi del gioco E poi i punti esperienza ricevuti Necessari appunto per far avanzare i nostri personaggi di livello Come ci si muove? Ci si muove semplicemente utilizzando un pad analogico Che noi potremo andare a selezionare ovunque Quindi qua in questo caso Che siamo al centro dello schermo Qua in basso Qua in alto E così via Quindi diciamo che le meccaniche di gioco sono veramente semplici Non c'è nulla di complicato Né per quanto riguarda i movimenti Quando ci stiamo muovendo Sul territorio Quindi per andare per esempio da città a città Invece per quanto riguarda anche la modalità di combattimento Anche qua veramente molto facile Basterà scegliere cosa far fare al nostro personaggio Che poi verrà eseguito tutto in maniera automatica Proviamo ad entrare in una città Potete vedere Canaan in questo momento Quindi ogni volta che noi entreremo in una città Comparirà qua in alto una barra blu con il nome della città Per andare a parlare con un personaggio Basterà poi premere Su qualsiasi punto dello schermo Una volta comparsa il punto esclamativo E qui si andrà a parlare poi col personaggio Quest'azione verrà eseguita tutte le volte Che noi dovremo parlare o con un personaggio O dovremo eseguire determinati movimenti Per esempio se dobbiamo riposarci in un letto Comparirà il punto esclamativo Quando ci siamo avvicinati al letto E di lì poi potremo scegliere se riposarci o meno Per ripristinare la vita ai nostri personaggi Oppure quando ci troviamo vicini a degli scrigni Per esempio comunque a dei vasi Dove all'interno ci sono degli oggetti Che ci possono essere utili Quindi per prenderli Basterà premere il pulsante Basterà appunto il punto esclamativo Per poi Prendere appunto all'interno Di un vaso Per esempio La pozione O comunque Quell'oggetto che troviamo Poi Allora Vediamo un po' Mappa Allora andando su mappa Come potete vedere Arriva fino al punto Non è completa Io per esempio Sono appena sbloccato questa città E prima la linea Quindi Tutta questa parte qua Non c'era Quindi una volta che Man mano che noi andremo avanti Con il gioco La mappa si espanderà Rapida occhiata al menu Vediamo Abbiamo l'elenco dei personaggi Con i vari punti vita e punti magia Il livello Il nome Che In questo caso Io ho lasciato Quelli originali Ma che comunque Si ha la possibilità di cambiare L'importante è stare All'interno di sei caratteri Vediamo Oggetti Sono gli oggetti Che abbiamo fino ad ora raccolto Quindi per esempio Pozione Collirio Energia Queste sono Delle armi Poi Se andiamo indietro Vediamo Come equipaggiare Un'arma Per esempio Queste due sono le armi Che in questo momento L'Unet ha Se noi premiamo una volta Basterà scegliere Un'arma Per poi andarla A sostituire Per esempio Premiamo questa Come potete vedere L'abbiamo sostituita E così va per tutti i personaggi Basterà muoversi con le frecce In questo modo Poi Formazione Qui possiamo scegliere In che modo Cambiare La formazione Quindi Il vario L'ordine Dei personaggi Poi Andando su opzioni Abbiamo la possibilità Qua c'è scritto Configurazione 1 e 2 In sostanza Possiamo Modificare Le varie Le varie impostazioni Quelle classiche Quindi la velocità del testo Il cursore Il movimento Le musiche Gli effetti sonori Possibilità di bloccare O meno lo schermo E poi qui abbiamo La possibilità Di tornare al titolo Oppure Di leggere Dei suggerimenti Che il gioco Ci da Poi abbiamo Sospendi Quindi Abbiamo la possibilità Di sospendere La sessione di gioco Classe Ogni classe Di magia Che il nostro personaggio In cui il nostro personaggio Si trova Status Possiamo scegliere Un personaggio E vedere Tutte le sue caratteristiche Quindi Forza Agilità Vitalità Saggezza Spirito Attacco E difesa E ovviamente Anche difesa magica E così va per tutti i personaggi A che livello è Quanta esperienza ha E quanto Li manca Per arrivare Al prossimo livello Magie Qui Potremo vedere In questo caso Io non ho nessuna Arma a disposizione Però qui ovviamente Potremo andare Poi a selezionare Una magia Da applicare Durante la battaglia Il pulsante salva Non è Diciamo Non è evidenziato Di bianco Perché noi Avremo la possibilità Di salvare In maniera manuale Solamente Mentre saremo Sulla mappa Cosa vuol dire Vi faccio vedere Noi in questo momento Siamo in una città Quindi andando su menu Ovviamente Salva Non compare Se noi invece Andiamo Qua Sulla mappa Basterà fare menu Faremo salva E qui avremo la possibilità Di scegliere Tre slot Per andare Poi appunto Salvare I nostri progressi Che dire Io lo consiglio Per tutti I fan Della saga E non Difatti Io Per esempio Non ero Non avevo mai Giocato Ad un titolo Del genere E devo dire Che comunque Mi sta Abbastanza Prendendo Per quanto riguarda La grafica Nulla da dire I comandi Sono veramente Semplici Quindi non Non è nulla Di complicato Anche il Comparto sonoro È veramente Notevole Quindi vi ricordo Che comunque Il prezzo Per Final Fantasy 3 Per iPad È di 13,99€ Mentre Per la versione iPhone Che è uguale A quella per iPad È 12,99€ Io vi saluto Vi rimando alla prossima Videorecensione Ciao a tutti